Dal vertice in prefettura non potevano scaturire decisioni. Non poteva prenderne alcuno dei soggetti pur titolari di cariche e funzioni che hanno un peso diretto nella vicenda. Però ai lavoratori è sembrato utile per la presa di coscienza della necessità e dell'urgenza di una soluzione che a tutti i livelli il confronto ha prodotto. L'avvertenza donna fugata resort non può risolversi facilmente perché il mandato del curatore fallimentale è quello di tentare di mantenere la continuità operativa. Finora quindi il licenziamento chiesto dai lavoratori sospesi e senza stipendio non è fattibile. Ne si intravede all'orizzonte la possibilità che un gestore possa riaprire la struttura. In proposito si attende il terzo tentativo ma le speranze sono ridotte all'umicino. La società che gestisce il donna fugata resort è stata dichiarata fallita con sentenza della Corte d'Appello di Catania del 31 maggio scorso. La linea del Tribunale della curatella fallimentare è stata quella di tentare di salvare l'attività ma finora non sono emerse offerte dotate dai requisiti previsti dal bando. Preoccupati i lavoratori dopo un'assemblea dei giorni scorsi avevano indetto un sit-in per lunedì prossimo ma subito dopo è arrivata la convocazione da parte del prefetto Filippina Cocuzza. Tuttavia come dicevamo non potevano scaturire soluzioni operative o immediate. I 45 dipendenti non ricevono stipendio da diversi mesi. Sono sospesi ma non sono stati licenziati il che li impedisce loro di avvalersi di questa condizione sia nella ricerca di un nuovo lavoro sia nell'accesso alle prestazioni sociali previste. E il problema del blocco dell'attività di questa struttura ricettiva a 5 stelle super lusso non è solo quello occupazionale pur urgente e importante. C'è anche il valore del patrimonio produttivo di una struttura che potrebbe generare ricchezza nel territorio ibleo. Per le organizzazioni sindacali è fondamentale determinare un serrato confronto e attivare un tavolo permanente al quale dovebbero sedersi IMSS, l'ente bilaterare del turismo, la curatela fallimentare e i rappresentanti delle parti. Questa situazione è conseguenza del fallimento del donna fugata Gold Resort con la conseguente apertura dell'esercizio provvisorio fino al 30 novembre 2018. A dicembre il primo bando per l'affitto d'azienda con scadenza del termine il 10 gennaio del 2019. Al bando partecipò solo un'azienda risultata priva dei requisiti richiesti. Il 25 gennaio 2019 è stato aperto un nuovo bando con un ribasso pari al 50% rispetto al bando precedente che è scaduto il 25 febbraio 2019 senza alcun risultato. Ora forse un terzo tentativo ma sono in pochi a sperare in una svolta positiva.